buonasera a tutte e a tutti io sono cecilia palombelli della casa editrice viella e con grande piacere questo pomeriggio presentiamo il libro di stefano zamponi le ragioni della scrittura piccoli scritti di paleografia un volume che è stato curato da teresa dei roberti nicoletta giovane marchioli ed è un libro un libro importante un libro soprattutto inserito nella collana diretta da marco palma scritture e libri del medioevo del numero 19 e sono vent'anni diciamo fatto prima dei conti da quando è iniziata la collana e mi fa particolarmente piacere presentarvi anche gli ospiti di questa sera che parleranno del libro che sono irene ceccherini e marco cursi ma irene dell'unità di firenze e marco dell'università di napoli e mi da molto piacere questo libro di stefano perché comunque è stato un libro anche molto curato insieme un libro collettivo che un po anche la cifra del lavoro di stefano che tanto tanto ha fatto e tanto ha messo insieme persone idee e scuole è un libro che gli altri sia le curatrici che l'autore stesso che i presentatori mi presenteranno meglio di me nel dettaglio però vi posso dire che c'è l'articolo finale che ho letto con grande piacere che voi ospiti e voi che ascoltate su facebook vi invito a leggere il maestiere di paleografo perché è veramente un bel un bel saggio per tutti io volevo anche cogliere l'occasione per ringraziare tutti gli amici che hanno sostenuto la pubblicazione di questo libro che sono stati tanti e che veramente ringrazio di cuore a nome a nome anche della casa editrice perché comunque è stato un libro è un libro come vedete impegnativo è un bel libro e quindi vi ringrazio a tutti la serata diciamo che nei tempi di zoom farei degli interventi brevi perché così vuole il video e darei la parola comunque a Marco Palma che eh gestirà la parte scientifica culturale della serata. Prego Marco. Aprendo però Marco il tuo microfono. Marco devi aprire il microfono. È quello che sto facendo. Brava. Non partito. Io chiudo il mio. Io chiudo il mio. Io chiudo il mio. Io sì no esatto io poi mi sono posso dire che comunque veramente con tutti quanti sia eh con Stefano come dice mi lega un'amicizia da molti anni e sono andata indietro del tempo cercando di ricordare penso che sia dal da un convegno di pistoglia e sono andata anche a guardare quale fosse perché vi ricordavo alcune persone ed è un convegno del novantatré il senso della storia penso che io ero insomma anche io ero giovane ma da allora come dire abbiamo sempre mantenuto un rapporto non solo di lavoro come dire di affetto nella nella nostra collaborazione. Prego Marco questo era un dettaglio come dire della presentazione. Vai. Va bene allora è inutile dire che questo è il libro a cui io personalmente ho tenuto moltissimo e sono molto contento che sia uscito e non perché sono legato a Stefano ovviamente da amicizia non so quant'è da prima del novantatré di di Cecilia insomma trent'anni qualcosa del genere e e ovviamente è inutile dire insomma che ho la massima stima dell'autore è quasi una quasi comico che io lo dica insomma. Questo è un libro di paleografia che non è una cosa molto frequente libri di paleografia che non siano manuali eh ed è un libro di paleografia formale eh questa è la cosa fondamentale cioè è una eh un indirizzo una filosofia della ricerca paleografica molto precisa molto chiara molto dettagliata anche nel nel nei suoi percorsi. Questo lo fa essere un libro importante anche perché in parte eh sono piccoli scritti che sono usciti ma sono usciti solo in parte prima di questo libro. Ce ne sono tre che sono completamente inediti erano completamente inediti e Cecilia mi ha preceduto nel dire che io l'autore lo sa lo sanno anche le curatrici insomma io vado facendo pubblicità a questo libro soprattutto con quelli che spero che sentano da Facebook perché non ne vedo eh nomi nuovi o o quasi per niente insomma davanti a me eh spero che appunto tutti coloro che non appartengono al gotta paleografico eh eh soprattutto per ragioni di età comincino a leggere questo libro dall'ultimo perché il messiere di paleografo è la cosa più importante prima di cominciare a leggere il resto perché se si comincia con elisione e sovrapposizione vale a dire il primo degli articoli eh chi eh non è proprio addentro alla materia può può avere un senso di sconcerto può può rimanere un po' eh perplesso insomma proprio per la modalità di approccio che è propria della scuola eh cui appartiene Stefano cioè la scuola di casa massima insomma sostanzialmente una delle scuole eh italiane una forse la più la più nota la più esportata una delle più esportate così non facciamo torto a nessuno per carità eh eh è chiaro che che eh leggere questo libro comporta avere una qualche familiarità con con la terminologia i meccanismi della paleografia è da considerarsi per per i giovani perché soprattutto a loro dovrebbe essere indirizzato un eh un libro di formazione eh una 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 lettura che si fa quando uno vuole dedicare una parte del suo tempo delle sue ricerche se non diciamo il grosso alla paleografia vista sotto l'ottica appunto formale eh sappiamo benissimo che ci sono anche altre scuole e che seguono anche altre strade eh è bene che ci sia quindi una una sorta di manuale tra tutte le virgolette possibili perché non è assolutamente un manuale di un indirizzo paleografico molto importante e che eh indubbiamente ha contribuito e contribuirà ancora a a formare generazioni di 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 piccoli paleografi di giovani paleografi allora siccome bisogna parlare poco adesso io farei parlare le due persone che eh hanno accettato di di presentare il libro e che in qualche modo rappresentano anche indirizzi diversi eh e e quindi particolarmente interessante sentire cosa hanno da dire comincerei con Marco Cursi eh è inutile che lo presenti Marco Cursi eh eh Napoli bisogna aggiungere Federico II eh eh adesso anche Accademia dei un po' un po' diciamo di titoli si possono si possono eh dire eh è anche qualcuno che ha pubblicato in questa collana che collabora con la casa editrice quindi diciamo è un personaggio familiare eh ovviamente a parte le ragioni biografiche che lo leggono a Roma e e alla scuola romana insomma Marco dici qualcosa allora intanto mi sentite funziona allora naturalmente un grande ringraziamento a Cecilia Nicoletta Teresa che mi hanno voluto per questa presentazione che faccio veramente con grande piacere e la prima cosa che mi sento di dire a proposito delle ragioni della scrittura è che si tratta certamente di un libro denso ricchissimo di contenuti di indicazioni di metodo di proposte attributive di approfondimenti su personaggi di grande rilievo per la storia della scrittura latina specialmente dei secoli quindici e sedici la struttura su cui si fonda emerge con evidenza dall'indice iniziale breve premessa delle curatrici poi elenco completo degli scritti di Stefano Zamponi per un totale di cento ventitré titoli cui segue l'introduzione in cui l'autore propone un bilancio del suo percorso scientifico e una serie di dodici saggi come è stato detto in precedenza tra i quali nove editi datate di un periodo compreso tra il millenovecentottantotto il duemiladiciotto e tre inediti in chiusura la bibliografia un ricco apparato di sessantaquattro tavole l'indice dei manoscritti e la tabula gratulatoria il volume appare dotato di una grande coerenza e i saggi che sono stati prescelti rimandano a tre temi principali l'affermazione e la diffusione della lettera textualis da una parte e la fioritura e successiva ampia circolazione della lettera antica dall'altra cui si affiancano alcune considerazioni di metodo sulla ricerca paleografica che più in generale come è stato detto sul mestiere del paleografo cui è dedicato l'ultimo contributo questa compattezza rifletta a mio parere una scelta indubbiamente felice delle curatrici Nicoletta Giove e Teresa De Robertis che hanno deciso di coinvolgere nella preparazione il festeggiato che secondo quanto detto nella premessa è stato letteralmente e affettuosamente costretto a lavorare con loro se scorriamo le pagine rapidamente fino ad approdare al corposo apparato dei tavole finali si ha la netta percezione di avere tra le mani come è stato detto un libro scritto da un paleografo per altri paleografi ma poi quando si passa ad una lettura attenta ci si rende ben presto conto del fatto che si tratta di un volume molto utile anche per studiosi di altre discipline pensa agli storici dell'arte in riferimento ad esempio alla discussione sulla maiuscola antiquaria di Andrea Mantegna il giudizio di San Giacomo nella chiesa degli eremitani a Padova o ancora nel dipinto della santo efemia ora al museo di Capodimonte a Napoli naturalmente agli epigrafisti con rimando ancora a Mantegna e alla sua epigrafe sul portale maggiore della basilica del Santa Padova e più ampiamente al saggio in cui si illustrano le iscrizioni quattrocentesche di programmatico gusto antiquario conservate in Trentino nel castello del Buon Consiglio e altrove da parte mia in una divisione di compiti concordata con Irene Ceccherini tenterò di concentrare l'attenzione sui tre saggi contenuti nella prima parte del volume dedicati alla littera textualis o gotica i primi due risalgono alla fine degli anni ottanta del novecento e lisione sovrapposizione nella littera textualis del millenovecentottantotto e la scrittura del libro nel duecento presentato nello stesso anno come relazione nel convegno genovese su civiltà comunale libro scrittura documento mentre il terzo intitolato quattro secoli di littera textualis in Italia è uno di quelli pubblicati per l'occasione rivedendo e sviluppando due capitoli del The Oxford Handbook of the Latin Paleography uscito nel 2020 anche se la loro elaborazione avvenne già nel 2013 secondo quanto riportato dallo stesso Stefano nell'introduzione qualche cenno infine sarà riservato ad un altro saggio solo parzialmente legato alla scrittura testuale ma di grande impatto metodologico quello su struttura esecuzione e stile ripensando il protocollo Mallon edito nel 2018 in una miscellanea di studi dedicata ad Albert Derrolet il punto di partenza di questo breve percorso non può che essere fornito da una notazione di carattere biografico inserita da Stefano in testa alla sua introduzione nella primavera del 1977 Emanuele Casamassima gli propose di lavorare sulle regole di composizione della littera textualis compiendo un approfondito esame di un trattato di scrittura cinquecentesco il luminario di Giovanni Battista Verini credo di poter dire che Zampone sia rimasto fedele in tutto il suo percorso scientifico all'invito del suo maestro che lo portava ad esplorare l'atto grafico nel suo interno investigando quello che potremmo definire il dna di ciascuna scrittura e abbracciando una visione della paleografia che indaga il segno in senso dinamico mentre viene tracciato e non dopo che viene tracciato se volessimo ricorrere ad un'espressione di un altro grande maestro Armando Petrucci ricordato nell'introduzione per avere invitato Stefano a presentare i primi risultati della sua inchiesta sul luminario all'ottavo colloquio del comité internazionale di paleografie latin del millenovecentottantasette potremmo dire che la domanda sulla quale è fondata la gran parte della sua riflessione paleografica è quella del come declinata soprattutto sul problema del sistema di rapporti tra le lettere ed ecco allora che in elisione e sovrapposizione grazie ad un esame attento di una sezione del primo libro del trattato del Verini che non era stato preso in considerazione da casa massima Zampone riesce ad isolare una terza regola che si affianca alle due notissime del Meyer questa nuova norma che ormai è entrata a pieno titolo in qualsiasi corso di paleografia riguarda l'elisione del tratto di attacco di sette lettere I M N P R T U che interviene se queste ultime sono presciutate da altre sette lettere C E F P R T X fin dalla sua prima enunciazione Zampone tiene a specificare che il meccanismo dell'elisione ha una sua precisa funzione perfezionare la composizio litterarum ovvero aiutare l'occhio del lettore ad individuare la singola parola serrando le lettere l'una alle altre ed evitando che tra una lettera e l'altra si insini un eccessivo spazio bianco questa considerazione concentrata in poche righe siamo a pagina 30 mi sembra particolarmente rilevante poiché mostra con evidenza che le riflessioni paleografiche di Stefano pur essendo certamente centrate sulle prassi di scrittura guardano costantemente anche alle pratiche di lettura che finiscono per avere un peso assai rilevante nelle scelte dei copisti in questo contributo mi paiono di notevole interesse anche altri due indicazioni di carattere strettamente metodologico la prima riguarda la necessità di non cadere nella tentazione di applicare una nuova regola con atteggiamento a storico al di fuori di esperienze grafiche determinate nello spazio e nel tempo la seconda discendente dalla prima prescrive di ritagliare campi di indagine molto circoscritti per testare la veridicità di un'affermazione infatti di scrittura costruendo corpora di manoscritti ben delineati per verificare l'uso dell'elisione zamponi costituisce un gruppo di 240 testimoni datati prodotti nel centro nord della Francia tratti dal grande contenitore dei manoscritti latini recanti indicazioni di data conservati nelle biblioteche francesi editi da samarane marischal all'epoca costituito da sette volumi la scelta fu in qualche misura obbligata visto che in quel momento in italia non esisteva un simile repertorio e c'è da chiedersi se proprio allora stefano maturò la convinzione dell'opportunità di lanciarsi nella grande impresa dei manoscritti datati d'italia che troverà forma nel primo volume su trento edito otto anni dopo nel 1996 simili e dinamiche mi pare si possano cogliere nel saggio la scrittura del libro nel duecento incentrato sul difficile problema della transizione dalla lettera antiqua del secolo dodicesimo alla lettera nova del tredicesimo stavolta però nella prospettiva delle vicende grafiche italiane anche in questo caso i confini della ricerca sono delimitati su ambienti graficamente omogenei i manoscritti originari delle tre regioni in cui nasce e si sviluppa la rotonda toscana emilia veneto padano l'indagine conduta attraverso un'inchiesta realizzata valendosi di un vasto repertorio di fonti da una parte sondaggi diretti nelle biblioteche con particolare attenzione riservate codici laurenziani e dall'altra verifiche su raccolta di tavole cataloghi di mostre studi di storia della miniatura la prima esplicita opposizione tra due sistemi di scrittura littera antica da una parte littera nuova dall'altra in ambito bolognese è riportata ad un passaggio dell'Arts notare di Salatiele risalente al quinto decennio del secolo tredicesimo che dopo essere stato segnalato per la prima volta da orlandelli viene qui fortemente valorizzato anche in questo caso zamponi tiene a sottolineare che un'analisi statica della scrittura compiuta lettera dopo lettera non consentirebbe di comprendere il senso di questa alterità a suo parere per cogliere il reale significato di tale giusta posizione non dobbiamo andare ad aspetti puramente morfologici ma al costituirsi della lettera al suo funzionamento che consente di cogliere il progressivo emergere di una serie di leggi sintagmatiche che regolano la successione di lettere contigue e in ottica esecutiva l'affermazione dello scrivere a piccoli tocchi di penna il fatto davvero nuovo è individuato nella compiuta separazione della parola grafica ogni dixio è separata dall'altra con uno spazio bianco tanto che il sistema alfabetico assume un valore per così dire ideografico permettendo di individuare visivamente le partizioni del testo l'attenzione alle pratiche di lettura è confermata da altri due passaggi nel primo si sottolinea il fatto che il processo di cui stiamo trattando ebbe luogo nel momento in cui si assista al definitivo imporsi della lettura silenziosa nel secondo si afferma che la rotonda pur presentando un tessuto grafico fortemente spezzato come le formate degli altri paesi europei è attenta a realizzare alcune scelte che hanno l'obiettivo primario di conseguire una migliore leggibilità da quell'ipotesi che proprio la chiarezza d'insieme abbia favorito l'ampia diffusione di questa tipologia grafica per i testi liturgici della comunicazione scientifica diritto teologia e medicina contro altri modelli textuali praticati in italia nel duecento passando al terzo contributo a editi un'occasione dell'uscita del volume di cui stiamo parlando mi pare di poter dire che tra le sue pagine si colgono diversa di acquisizione di sicuro rilievo così affiancano per le proprie novità innanzitutto credo che siano da condividere le riserve espresse dall'autore sull'esistenza di una reale differenza tra la rotonda e la lettera bononiensis cui spesso si fa riferimento nella manualistica paleografica in effetti la distanza tra la scrittura utilizzata per i testi tipici della cultura universitaria campo incontrastato della bononiensis e quelli recanti contenuti di altro genere pare minima tanto da poter essere sostanzialmente riportata ad una maggiore compressione in orizzontale in verticale o al ricorso più frequente alla dittonda o la o angolare vale a dire cito a minute scelte esecutive d'altro canto quello che si presenta come il più distintivo carattere della bononiensis ovvero il sistematico ricorso e segni abbreviativi appare del tutto normale in ragione della natura stessa dei testi giuridici che trasmette secondariamente mi pare rimarchevole la puntualizzazione sull'oggettivo impossibilità di individuare aspetti cito anche qui di esecuzione ostile utile a connotare la produzione intestuale di una regione di un territorio di una città chiaramente espressa da zamponi quando sostiene che l'impresa di tentare una geografia della lettera textuale sitaliana sembra al momento priva di solide basi tale affermazione conferma la validità e lo spessore di uno studio del 1993 di paola supino martini che si concludeva con la constatazione che in via generale la localizzazione di codici littere textuale sembra doversi limitare ad attribuzioni nazionali anche poiché fatte salve le littere scolastiche non pare che i contemporanei distinguessero variata locali textuali all'interno di ciascuna nazione ancora all'interno di questo saggio molto rilevante appare il tentativo di soppesare il contributo dato dalle testuali all'intero panorama della produzione manoscritta in Italia nei secoli quattordici e quindici grazie ad un esame dei corposi materiali offerti dai manoscritti datati d'Italia in cui si passano in rassegna trenta volumi ciò che emerge da una prima verifica accanto al prevedibile ed esponenziale aumento dei codici che possono essere presi in considerazione dai sessantadue della prima metà del trecento ai mille trecentotrenta della seconda metà del quattrocento e la messa a fuoco di una chiara linea di tendenza individuabile nel progressivo e inesorabile calo delle testuali che passano dal sessantacinque al ventisei per cento del totale mentre colpisce la forte riduzione della cancelleresca dal dieci al tre per cento e la progressiva ascesa della mercantesca che da un iniziale sei per cento si attesta sul valore che oscillano costantemente tra il dieci e il quindici per cento per chiudere credo sia opportuno almeno un cenno al penultimo saggio riguardante cito i fatti di struttura esecuzione stile mi piace ricordare in particolare alcune riflessioni sul cosiddetto angolo di scrittura che ne ridimensionano l'importanza rifacendosi tra l'altro a recenti considerazioni di guglielmo cavallo e paolo fioretti che hanno dimostrato l'esistenza di numerose sistematico oscillazioni nelle rilevazioni di esso in scritture normative greca e latine di età classica e tardo antica anche in questa occasione si propone una scelta di metodo di grande impatto quando si prendono le distanze dalla visione di jacques bussard che individuava il motore del cambiamento che avrebbe condotta la testuale nel nuovo modo di temperare la penna mozza a sinistra si fa ricorso anche ad esemplificazioni tratte dai moderni trattati di paleografia e dall'osservazione della forma dei pennini utilizzati per gli esercizi calligrafici concludendo con una considerazione paradossale se un calligrafo moderno riproducesse una tarda carolina con una penna temperata pari e poi mantenendo il medesimo angolo di scrittura riproducesse la stessa minuscola con una penna mozza a sinistra otterrebbe sostanzialmente lo stesso risultato ovvero la medesima minuscola carolina di prima caratterizzata da leggere variazioni riguardanti tratti verticali leggermente più sottili e quelli orizzontali un po più spessi torniamo così al punto di partenza quello di uno studioso che tenti in ogni modo di comprendere l'essenza dell'atto grafico dall'interno e che per fare questo è pronto anche a prendere a riferimento vere e proprie sperimentazioni sul campo mi sembra un bel modo per interpretare il mestiere del paleografo poiché lo rende cito un modo di fare storia che apre a prospettiva altrimenti inattingibili per il quale occorrono sicuramente curiosità desiderio capacità di acquisire stretta familiarità con più tipologie di oggetti che tramandano scrittura ma soprattutto cito occhi nuovi e liberi ho finito Marco Marco devi sempre aprire il microfono e poi c'è Teresa che vuole dire una cosa sì aspetta un po ecco ecco va bene sì allora chi è che deve dire qualcosa no io volevo solo applaudire ah va bene Teresa certo perché Marco ha fatto ha fatto un ottimo lavoro cioè ha reso esattamente lo spirito di questo di questo libro e direi lo spirito del suo autore il modo in cui porsi di fronte al fenomeno grafico con l'occhio suo l'occhio l'occhio della persona che guarda quello che vede non quello che c'è dietro la cosa che lo preoccupa è l'oggetto il tratto la la il modo in cui vengono tracciate ehm le le lettere e le parti delle lettere è esattamente la paleografia formale di cui si diceva prima insomma che viene fatta con estrema attenzione e cura e sempre meglio man mano che si eh ingrandisce il panorama delle delle degli esempi che portano eh una data un luogo un nome appunto l'altra impresa che ha ricordato Marco prima cioè quella dei datati eh è una cosa che va 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 ricordata a latere di tutto quello che abbiamo detto finora di quello che si potrà dire dopo a proposito della sua attività perché aver avuto l'idea di di eh lanciare una una catalogazione dei manoscritti datati e quindi ovviamente anche localizzati e quindi anche con i nomi degli scribi è quello che permette poi concretamente alla paleografia di andare avanti eh di 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 eh di avere dei punti fermi a cui eh attaccarsi a cui rivolgersi per poter fare poi delle costruzioni per fare delle per creare anche delle teorie del resto la scienza va avanti così con teorie che si creano si elaborano e poi vengono come dire falsificate eh si va avanti in questo modo e e quello che ha fatto Stefano è esattamente questo insomma e l'ha fatto sia dal punto di vista dell'indagine personale insomma cioè quello che ha fatto lui personalmente sia quello che ha permesso di fare sta permetterà di fare anche agli altri mettendo a disposizione gli strumenti per farlo allora adesso risciacchiamo i panni in arno andiamo da Irene Ceccherini che dirà qualcos'altro immagino a quello che ha detto Marco Gursi prego buonasera a tutti innanzitutto se mi sentite mi confermate che mi sentite eh ringrazio anch'io eh sono molto felice di poter eh essere qui con voi a presentare questo questo volume così importante eh e mh io proseguo diciamo la presentazione del del volume eh come d'accordo con Marco Gursi eh occupandomi più nello specifico dei sette saggi o perlomeno di alcuni aspetti che emergono dai sette saggi che sono eh dedicati alla eh scrittura eh umanistica eh sei di questi già pubblicati tra il duemila quattro e il duemila sedici mentre uno eh eh inedito o meglio edito qui per la pubblicato qui per la prima volta ehm come ricorda lo stesso Zamponi nell'introduzione al volume l'interesse per la scrittura umanistica e per la scrittura degli umanisti eh risale già ai primissimi anni della sua chiamiamola vita da paleografo cioè agli inizi degli anni settanta eh con i eh seminari in Riccardiana organizzati da Emanuele Casamassima e e questo interesse si è concretizzato presto cioè già nel millenovecentosettantaquattro eh nella pubblicazione del volume mh in collaborazione con Stefano Caroti su eh Bartolomeo Fonzio ehm nei decenni successivi eh da Trieste poi a Padova poi a Firenze eh sono state intense e eh numerose eh le occasioni di studio e di riflessione sulla scrittura umanistica sia eh dai lavori sul campo che si ricordavano anche prima di eh catalogazione di manoscritti eh lo studio quindi condotti studi condotti nelle varie eh biblioteche e e soprattutto come appunto si ricorda nell'introduzione alla didattica che posso anche confermare personalmente eh con la direzione di eh tesi di laurea tesi di dottorato eh ma anche attraverso seminari io per esempio mi ricordo uno splendido e illuminante seminario eh condotto insieme a Teresa De Robertis proprio sulla scrittura umanistica eh credo nel novantanove eh duemila eh e qualche anno più avanti anche la direzione del progetto sozomeno umanista e pistoiese a cui ho avuto l'immenso piacere di eh collaborare da cui ho imparato tanto. Ehm tutte queste ricerche quindi hanno iniziato a prendere forma negli articoli che qui sono raccolti eh a partire dalla relazione tenuta nel duemilatré ad Anghian eh in occasione del convegno del comitè internazionale di paleografia latina mh che appunto si intitolava quell'anno angiubile paleografica perché erano cinquant'anni dalla fondazione del comitè internazionale di paleografia latina e quindi ehm eh a Stefano Zamponi fu affidata appunto la relazione su un bilancio sulla scrittura umanistica e successivamente un'altra tappa importante è quella appunto dell'organizzazione della mostra su Coluccio Salutati insieme a Teresa De Robertis e Giuliano Sant'Anturli nel duemila otto presso la biblioteca medicea laurenziana eh di eh di Firenze. Eh come Zamponi stesso dice nella sua introduzione al volume eh tutti questi lavori possono essere raccolti sotto un comune eh denominatore che il penso sia il titolo no che lui dà al paragrafo nell'introduzione cioè per una più larga storia della scrittura eh umanistica eh più larga mi sembra di poter interpretare non solo perché si dilata sul piano cronologico dalle prime sperimentazioni della riforma grafica nella Firenze del primo trecento fino alla riflessione sull'ultima trasformazione della scrittura di tradizione umanistica questo è il saggio qui per la prima volta edito sulla eh cancelleresca italica di eh Giovanni Francesco cresci eh ma anche più larga credo soprattutto perché ehm sono tutti lavori che mirano mi sembra in massima parte alla sintesi all'interpretazione storica eh infatti come già appunto nella relazione di Anghien poi pubblicata nel duemilaquattro eh Zamponi afferma virgolette eh rispetto agli ultimi decenni eh nei quali spesso ha predominato un atteggiamento molto empirico l'accumulo di dati di notizie di riproduzioni quasi in attesa che tutto questo materiale parli da sé bisogna lavorare anche per una stagione della sintesi e della interpretazione eh ci attende insomma il lavoro dello storico eh che può iniziare anche solo utilizzando quello che oggi conosciamo ehm in realtà come sanno tutti quelli che hanno letto i saggi e come apprezzeranno quelli che li leggeranno questo lavoro di sintesi eh si fonda anche su eh importantissime nuove eh acquisizioni che vengono inserite in un contesto appunto più ampio di interpretazione storica e i saggi eh in questo volume sono presentati coerentemente secondo l'ordine cronologico della storia della scrittura e sono il numero quattro la scrittura umanistica cinque Jacopo Angeli copista per salutati eh sei aspetti della tradizione gotica nella lettera antiqua eh sette le metamorfosi dell'antico eh la tradizione antiquaria veneta otto il eh paradigma e la fine della scrittura l'Ercolo l'Ercole senofontio del Feliciano nove epigrafi di tradizione antiquaria nel castello del buon consiglio di Trento e dieci eh virgulariter e inferiust Giovanni Francesco Cresci e la disputa sulla cursiva eh come si evince dai titoli i poli di attrazione i temi principali eh trattati in questi lavori sono sostanzialmente due due poli di attrazione primo la riforma grafica umanistica a Firenze eh alle origini eh tra la fine del trecento e primissimi anni del quattrocento e il rapporto con la nuova scrittura eh il rapporto tra la nuova scrittura e la tradizione gotica la scrittura della tradizione secondo polo di attrazione la scrittura umanistica nel Veneto quindi l'esperienza grafica veneto-padovana eh la sua relazione o meglio differenza con l'esperienza fiorentina e eh lo stabilirsi di un nuovo tipo di libro all'antica. Allora per quanto riguarda il primo polo eh Firenze le origini della riforma grafica umanistica eh i eh lavori presentano in generale una ricostruzione storica rinnovata rispetto agli studi precedenti anche in virtù eh di eh importanti acquisizioni e attribuzioni eh l'occasione della mostra su Coluccio Salutati ha infatti permesso di riconoscere con certezza eh l'esperienza grafica di Jacopo Angeli da Scarperia nei manoscritti di eh quel copista che Ulman nei primi importanti studi sulla scrittura umanistica aveva identificato come un collaboratore di eh Coluccio Salutati il cosiddetto terzo copista third scribe e che altri come Petruccio e della Mary invece riconducevano alla scrittura dello stesso Salutati. Eh questa nuova attribuzione che appunto si fonda non solo sull'analisi formale della scrittura ma anche sulla lettura restituzione di note e sottoscrizioni del copista stesso è importante non solo sul piano della storia del test di un testo perché con della lettera dello pseudoristea perché consente di dirimere la questione dell'attribuzione a Jacopo Angeli di questo testo ma anche perché ehm eh sul piano della storia della scrittura perché è importante per altre due ragioni almeno eh primo perché consente di ricollocare in un certo senso riposizionare la figura e il ruolo del Salutati nella vicenda della riforma grafica umanistica che viene quindi sì riconosciuto come promotore della riforma grafica in un certo senso anche traghettatore eh ma non come eh sperimentatore in prima persona di scrittura all'antica eh con tutto quello che questo chiaramente poi comporta dal punto di vista di ricostruzione storica di ehm eh ricostruzione della vicenda storica no? Della riforma grafica che quindi si pone in discontinuità rispetto alla tradizione precedente non in una sorta di eh eh climax da Petrarca in avanti. Ehm il secondo motivo per cui il riconoscimento di Jacopo Angeli mi sembra importante riguarda in un contesto interpretativo più generale eh la questione del rapporto con l'antico eh cioè con i manoscritti dei secoli undicesimo e dodicesimo che eh gli umanisti eh prendevano appunto a modello e questo in particolare è trattato no? Nel saggio aspetti della tradizione gotica nella lettera antica ehm grazie allo studio non solo di Jacopo Angeli ma anche di altri eh copisti eh è possibile è stato possibile quindi affermare che la riforma grafica degli umanisti non è una imitazione meccanica della scrittura del dodicesimo secolo e non rappresenta una cesura netta con la tradizione precedente. Tradizione precedente che quindi viene in un certo senso digerita dagli umanisti fiorentini quindi non rinnegata eh innanzitutto nelle strutture nelle strutture grafiche analisi formale importante che ci ricordava prima anche eh Marco. Inoltre eh eh appunto solide evidenze consentono di affermare che eh l'educazione grafica gotica quindi la tradizione è alla base di scritture atteggiate all'antica attraverso l'innesto dei marcatori tipici della scrittura eh ehm di antichità che segnala l'antichità la D diritta la S diritta la G tutte queste cose che conosciamo e questo succede sia a Firenze in quegli ambiti che sono estranei all'aspetto all'ambiente più rigido poggiano come ad esempio l'esperienza stessa di Jacopo Angeli l'esperienza diciamo così non che ha avuto in successo ma interessantissima di Giovanni Aretino ma anche lo stesso sozzomeno e cosa che succede anche in eh per esempio in Lombardia e in Veneto. Ehm si vince quindi tutto questo permette di eh di di affermare che è possibile individuare diverse anime della scrittura umanistica che non è dunque monolitica eh perché eh attraverso l'analisi formale l'aspetto formale della scrittura si possono cogliere i presupposti culturali del ritorno all'antico ehm in quest'ottica eh interpretativa si può inquadrare eh la differenza e qui vengo al secondo polo dell'esperienza pagare padano o veneta eh la differenza tra l'esperienza grafica fiorentina di modello poggiano che è dominante quindi filologica rispettosa della tradizione purtro le eh riserve che dicevamo e appunto la eh vicenda invece veneto padana in cui si configura a partire dalla metà del quattrocento tra Padova Venezia e eh Verona un ritorno all'antico diverso di nuova natura eh profondamente differente da quello fiorentino che assorbe l'esperienza di Ciriaco d'Ancona e individua nell'antichità romana cioè nell'antichità classica il vero punto di riferimento della scrittura all'antica che è quindi di gusto di sapore antiquario ehm il ritorno eh all'antico veneto veneto padano muta radicalmente l'aspetto eh del libro umanistico investendo non soltanto le cose più evidenti evidenti a tutti cioè l'apparato illustrativo frontoni cornucopie rovine eccetera ma anche eh quello che ci interessa più da vicino non la storia della scrittura eh tre sistemi di scrittura i loro rapporti la capitale cioè la maiuscola antiquaria la lettera antiquatonda cioè l'umanistica formale e la corsiva all'antica che poi sarà la cancelleresca italica ed è questa terna appunto capitale antiquatonda e cancelleresca italica che si fissa poi nella stampa e non la terna eh fiorentina e questo è detto ribadito provato più più volte ehm anche eh nel caso del Veneto questo quadro di sintesi si fonda non solo su appunto una rivalutazione di materiali eh già già noti ma anche su nuove importanti acquisizioni eh quindi per esempio il eh riconoscimento della eh maiuscola antiquaria nell'esperienza artistica di eh Andrea Mantegna prima ma anche subito dopo nei codici prodotti in ambiente eh padovano e nell'esperienza di alcuni copisti per esempio eh Biagio Saraceno maiuscole appunto che nei codici pur essendo dipinte riproducono la plasticità di quelle delle eh epigrafi che sono totalmente ignote alle capitali fiorentine poi il eh due importanti saggi sono dedicati alla Felice Feliciano di cui appunto è riconosciuto il coinvolgimento eh in questo in questo ehm sviluppo della eh scrittura umanistica in Veneto ehm un manoscritto l'Ercole e Senofoncio della biblioteca acidica di Padova e poi il ruolo di Feliciano nelle epigrafi del eh castello del eh buon consiglio in 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 Trentino e ehm l'inquadramento anche eh della vicenda di eh Bartolomeo San Vito in questo contesto antiquario e quindi l'elaborazione in questo contesto antiquario della del suo elegantissimo modello di corsiva all'antica che ehm darà poi spazio alla cancelleresca eh italica. Ehm io credo che il tempo a mia disposizione sia pressoché esaurito quindi mi fermo mi fermo qui spero di aver dato un piccolo quadro generale della dei saggi sulla scrittura umanistica e vi ringrazio per inizio. Vabbè adesso spero che mi si senta insomma senza difficoltà. Grazie a Irene che ha illustrato l'altra metà di questo libro cioè quello collegato a alla a delle esperienze molto concrete con nomi, cognomi, luoghi eh soprattutto il Veneto. Eh io mi chiedo ogni tanto se eh Stefano non avesse fatto una parte della sua carriera all'Università di Padova se eh la sua ricerca avrebbe avuto esattamente lo stesso percorso. Eh vedo che scuote la testa questo è un segno abbastanza importante del fatto comunque che noi noi che ci interessiamo di libri e scritture antiche in qualche modo siamo sempre legati soprattutto per i prodotti eh più recenti eh cioè non non per le capitali o le 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 Caroline insomma siamo legati anche al materiale che abbiamo sotto mano in qualche modo eh soprattutto quando abbiamo cominciato a studiare in tempi in cui non era tutto digitalizzato tutto offerto a schermo ma bisognava andare girando per i posti eh e tenerli in mano i libri cosa che eh personalmente auspico vivamente che possa continuare a prescindere la digitalizzazione quindi mi sembra eh che sia stato illustrato molto bene da da entrambi i relatori gli aspetti fondamentali di questo di questo volume così composito tra l'altro cioè non è una monografia è un insieme di piccole monografie eh adesso dovrebbero parlare però le curatrici quindi se riappare Teresa eh di Robertis ci dice un pochino come siete ecco cosa ha fatto insomma per questo libro ma no così abbiamo lavorato insieme come eh si è detto prima cioè io e Nicoletta abbiamo costretto Stefano Zamponi a lavorare a lavorare con noi eh come come curatrice anziana diciamo così eh eh parlo per prima e eh dire che tra tutti forse detengo il record mondiale di conoscenza di Stefano Zamponi eh conoscenza che risale al mio secondo anno di università non vi dico quando l'ho fatto ma sappiate che fra tre anni vado in pensione anch'io e quindi questo vi dà un po' la misura eh del del tempo passato eh ovviamente è stata una parte importante della nostra vita eh così la vita della ricerca insomma che abbiamo passato insieme anche se eh diciamo con intervalli nel periodo in cui lui è stato a Trieste e a Padova non ci siamo visti molto ma quando a quando è tornato a Firenze abbiamo collaborato insieme eh davvero voglio sottolineare questo davvero una collaborazione reale diciamo fatta di scambi eh quotidiani o quasi e di così di 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 lavori letti l'uno all'altro corretti l'uno all'altro insomma questo nella nel nome cioè secondo l'insegnamento di quello che è stato il nostro eh maestro eh Emanuele Casamassima che appunto faceva di questa modalità di insegnamento di insegnamento e di ricerca proprio la sua cifra eh riconoscibile eh è stato detto più volte si vede si eh intravede in filigrana eh la figura di di questo nostro maestro e eh grandissimo eh paleografo è stato detto che appunto il lavoro di Stefano è un lavoro che si connota cioè un approccio alla scrittura che si connota per un'analisi formale cioè un'analisi che eh come dire che tocca soprattutto gli aspetti diciamo eh della del modo con il quale si costruisce eh la scrittura Marco Palma ha detto prima eh scusami Cursi ha detto eh tra il è una attenzione rivolta al come no della della scrittura eh gli aspetti formali detti così forse a un pubblico non perfettamente addetto a questa cosa possono eh risultare così apparentemente aridi però va bisogna tenere presente una cosa cioè eh che eh la scrittura non esiste se non come traccia scritta ehm è una quindi è con questa traccia che noi dobbiamo continuamente eh fare i conti non possiamo prescindere da essa quale che poi sia l'interpretazione di questi fatti che noi ne vogliamo dare eh come dire eh aspetti più a te a una con una tensione maggiore agli aspetti e del degli scriventi come si dice cioè quindi dell'uso che di questa scrittura se ne fa del significato che a essa si dà ma insomma dal come non si può eh non si può eh prescindere eh e questi e questi tutti questi saggi hanno questa caratteristica eh in eh in comune eh insomma spero che a lettori nuovi non a noi che queste cose eh le conosciamo da tempo tutto questo risulti chiaro e risulti eh di stimolo per un modo di guardare eh la scrittura e non voglio dire non voglio dire altro eh voglio anche però sottolineare una cosa che questo libro che eh così è solo apparentemente la messa insieme di saggi in realtà c'è stato un grande lavoro lavoro di lavoro di rilettura collettiva mia di Nicoletta di Stefano di questi eh di questi lavori e è un prodotto del lockdown cioè è una delle poche cose che siamo riusciti a fare in questo periodo di lockdown e forse se non ci fosse stato questo chissà se eh avremmo avuto il tempo di eh di mettere insieme eh questi saggi quindi da una cosa cattiva eh nata almeno una cosa buona ecco certo sì grazie grazie anche a te Teresa per questo accenno al lockdown che indubbiamente eh è un ragionamento che ho sentito fare più volte eh e che ovviamente non è non è condivisibile eh nella sostanza insomma è una spiegazione di quello che si può fare se le le diciamo i rapporti umani eh si riducono a quello che stiamo facendo adesso cioè vederci in uno schermo insomma ecco speriamo che passi questo e che si possano fare tante altre cose come quella che tu e Nicoletta avete fatto anche quando ci si può vedere di persona adesso passerei all'altra curatrice prego sì la curatrice meno anziana eccola qua allora eh l'ha detto Teresa dunque mh tutti quelli prima hanno parlato prima di me hanno parlato molto del libro hanno messo in evidenza molti elementi interessanti e quindi non li ripeterò eh dico solo che questa è per me un'occasione lieta questa insomma di questo incontro di oggi eh e lo è ed è per me anche un'occasione insomma particolarmente sentita per due motivi in particolare insomma uno che riguarda la persona che stiamo in qualche modo celebrando e l'altro l'oggetto che stiamo celebrando e allora per quel che riguarda la persona mi metto anch'io in questa gara chi ha conosciuto prima Stefano e come dove e ricordo che io l'ho conosciuto il mio primo giorno di università la sua lezione di paleografia latina è stata la prima che io ho seguito e quindi necessariamente me la ricordo e quindi mi ricordo esattamente anche il luogo il momento di quell'incontro e di fatto Stefano è stato poi il mio maestro il mio relatore di tesi il mio predecessore sulla cattedra di Padovo se volete io il suo successore come preferite ed è eh insomma forse eh più di un amico eh non so bene come definirlo insomma è tutte queste cose insieme mi fa piacere che siamo qui insomma in qualche modo eh a celebrarlo e a sottolineare anche l'importanza dei suoi studi e per quel che riguarda l'oggetto invece di cui stiamo eh difettando è risultato di una esperienza molto forte permettetemi di definirla così anche umana oltre che eh scientifica è risultato anche di qualche combattimento insomma di qualche corpo a corpo piuttosto sentito ma al di là di questo è eh un libro che per quel che mi riguarda credo sia uno strumento utilissimo anche perché eh insegna un linguaggio che ovviamente è il linguaggio in cui io mi ritrovo è stato anche in qualche modo accennato a questo elemento un linguaggio in cui ripeto io mi ritrovo che uso e che è un linguaggio fondativo soprattutto per quel che riguarda l'analisi di alcuni aspetti importanti alcuni snodi importanti nella storia della scrittura sono stati ricordati bene sia da Marco prima che da Irene dopo i saggi portanti di questo lavoro ehm quello di su diciamo il mestiere di paleografo l'ha ben messo in luce anche Marco e mi piace sottolineare anche l'importanza del saggio sul protocollo Mallon per così dire perché mette in evidenza insomma alcuni ulteriori eh strumenti raffinati di Anes della scrittura eh non aggiungerei altro se non due cose un paio di ringraziamenti che per quel che mi riguarda sono assolutamente doverosi eh a Cecilia perché insomma ha colto questa iniziativa non vorrei dimenticare anche Andrea Setti Sfrugoni che è stato per me un interlocutore importante e voglio ringraziare anche Marco Palma che insomma è stato ben più di un direttore di Collano insomma e credo che io e lui sappiamo che questa cosa è più che mai vera e chiudo dicendo che una volta Stefano mi ha detto che il suo rapporto con me avrebbe voluto come quello fra Henry Morton Stanley e David Livingstone quando si sono incontrati nel miliottocentosettantuno sul lago Tanganyika no? E l'uno ha detto all'altro eh dotto I suppose pensando così a un rapporto cordiale ma distante ecco così ahimè Stefano non è stato e con questo ti e vi saluto non si sente ma come no non si sente vediamo un po' ecco bravo benissimo allora grazie anche a te per quello che hai detto e anche per il fatto che mi abbia ringraziato insomma io questo lavoro diciamo per i volumi che escono in quella collana ovviamente lo faccio in questo caso l'ho fatto diciamo con un'ulteriore motivazione perché l'autore era lui e di conseguenza ci tenevo molto che venisse un libro eh di suo gradimento innanzitutto e poi che avesse anche il gradimento generale del pubblico al quale pubblico adesso mi rivolgo per chiedere se prima di dare la parola all'autore volesse dire qualcosa un'occasione per poter interroguare in diretta l'autore del libro sia che l'abbiate già visto il libro sia che eh intendiate invece vederlo eh dopo questa presentazione c'è qualcuno che vuole intervenire lo può fare anche da Facebook o soltanto da da Zoom? No no abbiamo si può fare soltanto dai presenti qui perché la cosa che mi ero scordata di dire è che qui abbiamo invitato gli amici cari gli amici che avevano contribuito a subito il volume che ci fosse persone da fuori ogni volta di stare attenti a dare i link per le riunioni perché non si può mai sapere cosa eh chi e come arriva quindi cerchiamo di passo prima di Stefano io vorrei veramente ringraziare le curatrici eh che forse l'ho fatto poco all'inizio ma le due curatrici sono state veramente eh preziose c'è stata una forma di collaborazione magnifica e hanno fatto veramente un grande lavoro per cui volevo ringraziare Teresa e Nicoletta dove è andato il professore? Ecco per il lavoro ulteriormente per il lavoro e la collaborazione nel fare questo libro Stefano tocca a te all'autore va bene allora innanzitutto devo iniziare anch'io da ringraziamenti il primo a Cecilia Palombelli che si è preso il rischio della pubblicazione del volume alle due curatrici vorrei ricordare Giovanni Martellucci e con grande generosità ha lavorato al a migliorare le eh immagini che io avevo e che potevo mettere a disposizione e eh naturalmente ringrazio moltissimo Marco Corsi e Irene Ceccherini per la loro presentazione e i loro interventi ma insomma ehm un pensiero particolare va proprio a Marco Palma perché gli anni di amicizia sono 40 ho fatto il conto e eh come dire l'impegno con cui è stato dietro a questo libro eh è come dire eh giustificato direi quasi dal proprio dall'affetto e quindi questo poi è il valore in più direi di tutto questo. Eh beh grazie. Poi ehm mi è stato chiesto anche dalle curatrici se in questo momento posso come dire fare qualche parola di conclusione e ehm io vorrei come dire anche costeggiando quello che è stato detto eh presentarvi eh tre considerazioni. Considerazioni che valgono ovviamente eh per i più giovani che eventualmente ci stanno a sentire da Facebook e che eh stanno per intraprendere un itinerario di ricerca ma eh secondo me valgono anche per i più anziani cioè per i loro maestri per i professori che devono guidare questi giovani. Ecco la 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 prima cosa ne abbiamo parlato abbiamo accennato poco fa alla pandemia e al periodo di chiusura. Io direi la prima cosa da sottolineare è innanzitutto la necessità di un rapporto diretto con gli oggetti di studi. Eh da qualche anno eh sembra che faccia fino dire autoptico. A me non mi piace per nulla ma su queste sono sono fatti miei diciamo eh qualunque siano questi oggetti quindi eh papiri letterari o documentari eh codici letterari epigrafi eh documenti d'archivio eh tutti veniamo da due anni di una scesura pesantissima con eh biblioteche e archivi inaccessibili oppure da un po' accessibili ma esclusivamente in dosi omeopatiche con contingentamenti molto forti. E eh devo dire che questo ha molto favorito la smaterializzazione della ricerca eh cioè ha invitato a progettare ricerche solo con materiali che si trovano online. Quando invece un paleografo cresce e si rafforza solo con dal confronto diretto con gli oggetti che studia. Vorrei proprio ricordare una geniale provocazione di Jean Malone eh cioè la sua teorizzazione della prevalenza dei caratteri esterni di ogni monumento grafico su tutto il resto. Ai fini di una corretta interpretazione del testo e delle sue forme grafiche. Insomma ciò che trasmette scrittura può essere apprezzato solo in originale. E solo l'originale rende pienamente conto del testo tradito e delle sue modalità e anche proprio delle sue modalità di fruizione, di lettura, di gestione. eh secondo punto eh questo è già stato detto soprattutto da Marco Cursi vorrei ribadirlo eh la necessità di considerare la scrittura come un insieme funzionale all'interno di una concezione dinamica. La scrittura non è solo una combinatoria di lettere alfabetiche che variano nel tempo ma è soprattutto un sistema di rapporti fra le lettere che variano nel tempo e che rendono comprensibili, intelligibili storicamente il senso e la direzione dei mutamenti. Così come chiariscono i diversi modi di rifolizione del testo scritto, cioè il rapporto uomo-scrittura. Terzo eh punto ehm io Teresa, Grobertis e molti altri abbiamo avuto la la fortuna di avere un docente di paleografia eh Emanuele Casamassima chiaramente antidogmalico e nei suoi seminari eh non solo metteva in discussione la testi dei grandi maestri ma si metteva continuamente in discussione. Spesso da una lezione a quell'altra ritornava sopra insomma un un movimento proprio in di di riflessione intensissimo. Cioè lui ci ha insegnato eh l'importanza di non affietarci mai nelle conoscenze nelle impostazioni tradite consuete che ovviamente vanno studiate, devono essere conosciute ma non debbono eh generare eh questa illusione che è consolatoria insomma che il più sia stato fatto e che ogni oggetto di studio può collocarsi dentro un quadro di riferimento che è fissato non diciamo per sempre ma certo fissato per la nostra generazione ecco ehm con la padronanza naturalmente occorre la padronanza consapevole degli strumenti della difesa ma con questa padronanza è sempre molto fruttuoso tentare vie nuove a nuove interpretazioni direi anche a costo di sbagliare perché come dire certe volte ehm lo abbiamo visto eh chi pratica gli studi gli errori che sono generosi gli errori visionari diciamo così eh sono di per sé estremamente fecondi per il progresso degli studi cioè non bisogna castrarci in partenza dal eh fermarci perché c'è un quadro già stabilito e eh quello che mi importa soprattutto è che bisogna evitare di accontentarsi delle classificazioni eh dell'ordinata come dire successione delle scritture no? Che nascono, fioriscono e muoiono secondo una tradizionale e abusatissima metafora biologica. eh devo dire che a mia impressione in questo momento proprio questo è il pericolo grande, il pericolo più grande, cioè quello di accettare quadri statici entro cui far confluire a ogni realizzazione grafica e questo pericolo è particolarmente forte perché è aggravato dalla possibilità di eh predisporre strumenti informatici per il riconoscimento automatico delle scritture. Quindi strumenti che permettono di collocare a ogni scrittura una volta insegnato al computer, alla macchina come fare, entro una casella anche a costo di qualche forzatura. quindi dematerializzazione della ricerca e utilizzo di una classificazione statica per gestire masse enormi di immagini di scritture potrebbero portare eh innanzitutto a un panorama di una noia mortale in cui una disciplina eh come la paleografia che è una disciplina tipicamente storico filologica il rapporto paritario con tutte le altre discipline che si interessano di antichità medioevo prima età moderna ecco si viene a risolvere di fatto in uno strumento gestionale del tutto a storico che mette in qualche ordine eh le scritture eh sulla base di affinità puramente esteriori formali e morfologiche ecco questo mi sembra proprio l'aspetto su cui bisogna riflettere ora e direi con questo basta rinnovo ringraziamenti a tutti coloro che si sono come dire spesi per questo libro ai due presentatori e grazie e basta così c'è una mano c'è qualcuno che vuole intervenire io vedo una mano là non c'è nessuno silenzio totale eh Stefano hai spaventato un po' la gente diciamo hanno un'occasione per chiederti qualcosa e non vogliono chiedertela ci dobbiamo fermare qui comunque vi volevo dire che comunque ci sono altrettante persone anzi di più su facebook che seguono e domani metteremo la la registrazione sul canale youtube per cui come dire queste lezioni del professor Cursi e della professoressa Ceccherini rimarranno ai posteri e anche l'intervento del professor Zanfoni meno male va siamo contenti sembra una bella conclusione di questa di questa presentazione insomma no? Allora chiudi tu eh Cecilia mi saluto io allora vi saluto mi è fatto molto piacere vedervi anche se anche se in in questa forma che comunque una forma diciamo che una forma comunque anche 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 comoda perché magari non era detto eh che tutte queste persone sia su facebook e che qui eh potessero essere presenti in un luogo quindi io penso che questa pandemia alcune cose utili sia interne che esterne ce l'ha date e io saluto tutti ringrazio tutti ringrazio tutti ringrazio il mio professor Palma anche il mio che non l'ho ringraziato abbastanza eh ringraziamenti ne abbiamo fatti tutti grazie Marco grazie Irene grazie Teresa eh grazie Nicoletta soprattutto e vi saluto eh uno dovrebbe dire alla prossima sì alla prossima sì ma non guardate noi eh per quello abbiamo già dato basta ho giurato e avanza no è un utilissimo il fatto di rimettere insieme gli articoli è uno delle come dire dei lavori più complicati più complicati più complicati che esiste questo lo possiamo dire alla fine no? I le mitiche scansioni questo questo ricontrollare tutti i testi questo è veramente un un gran lavoro allora vi saluto tutti bene grazie a tutti è stato un piacere ciao a tutti a tutti a tutti a tutti a tutti buonasera a tutti a tutti buonasera a tutti a tutti a tutti a tutti arrivederci ciao 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 a tutti